Spiego velocemente il format di Scusi non capisco, che è una formula anche in chiave un po' ironica per chi non ha dimestichezza con l'arte contemporanea, che alle volte è un po' ostica, è un po' difficile. Allora è nata questa formula molto coraggiosa e anche molto ironica, perché noi facciamo parte di questo mondo dell'arte che alle volte non riusciamo a spiegarci, alle volte sembriamo un po' incomprensibili. E allora ci senti adesso Maria Grazia? Adesso vi sento, scusatemi. Fantastico, ho approfittato di questo problema tecnico per spiegare velocemente la formula di Scusi non capisco, così chi non conosce questo format adesso conosce un po' meglio e capirà anche di cosa stiamo parlando. Allora io partirei subito, volevo partire parlando di donne, donne artiste. Abbiamo nella mia galleria lavoro con tante donne artiste e le ho sempre considerate spesso più brave degli uomini artisti, spero che gli uomini artisti mi perdoneranno. Forse non è un problema di essere più, non è questione di essere più brave, ma forse toccano delle corde che mi toccano più profondamente, più intimamente. E quindi perché le donne artiste si mettono più in gioco, lavorano più sulla loro autobiografia. Ho sempre notato questo, quando dall'inizio del mio lavoro nel 2003 invitai subito per la terza mostra Betty B, un artista napoletana che lavorava molto sulla propria biografia, sulla propria vita, sul proprio passato. Questa è una cosa che ammiro e che forse a qualcuno alle volte può spaventare, perché alle volte parlare profondamente di se stessi può svelare alcune cose che possono fare anche paura. E allora le donne artiste sono negli ultimi anni molto molto apprezzate, non si può negare che ci sia spazio per loro, però continua a esistere un velato maschilismo secondo me nell'arte. E mi è capitato più volte di sentire dei collezionisti che quando hanno appreso la notizia che una donna artista era rimasta incinta, hanno commentato senza mezzi termini è finita, la loro carriera è finita, non farà più niente di buono, mi vendo subito tutte le opere che ho, una roba inascoltabile. Cosa che invece non è successa quando degli artisti uomini, degli artisti maschi hanno avuto dei figli. Ora, per la mia personale esperienza lavoro con delle artiste donne che hanno dei figli, come Stefania Gallegati, era Marisaldi, Concetta Modica, e le trovo brave quanto prima. Forse alle volte anche i figli sono uno slancio, si aprono dei mondi nel lavoro delle donne artiste che prima dei figli non c'erano e che sono apprezzabilissime. Mi domandavo se nel mondo del teatro e del cinema succedesse qualcosa di simile. Assolutamente sì, anche quando io sono rimasta incinta la maggior parte delle persone ho detto è finita, perché un po' è come se tu fossi quasi un oggetto che si scompone, capito? E quindi non può essere più ricomposto, come se la maternità fosse un qualcosa che ti toglie dal pubblico il fatto di essere, non so, un sex symbol, il fatto di essere… non sei quasi neppure più donna, sei madre, che per me essere madre significa essere donna ancora di più, è la dimostrazione che sei nata femmina proprio perché hai questo dono di dare vita e anzi addirittura c'è stato… ero sotto contratto con… per una cosa pubblicitaria e c'è stato questo che poi ha rotto il contratto e mi ha fatto causa perché io nel frattempo ero rimasta incinta, cosa che poi comunque per fortuna c'è… ci sono delle leggi adesso che tutelano le donne, soprattutto nel momento più delicato e importante della vita di una donna e comunque trovi sempre l'idiota, io vedo ancora oggi ci sono delle persone che cercano, fanno delle richieste di lavoro, accanto c'è scritto no figli, cioè è come se tu un figlio fosse un impedimento nel lavoro, quando poi alla fine una donna che lavora, anche se diventa madre, vuole rimettersi in gioco e lavorare subito, logicamente devi dare la possibilità una donna di sapere che tuo figlio sta in mani sicure e poter ricominciare a lavorare nel modo giusto. Non si mettono mai le donne nella posizione giusta di poter conciliare la maternità con il lavoro, anzi diventa quasi un inferno, soprattutto adesso con questo lockdown, tante donne sono rimaste a casa, si sono ritrovate con i figli a casa, da dover dare, e poi lavorare da casa, che significa… non è una passeggiata lavorare da casa quando tu devi pensare a far da mangiare, a pensare ai tuoi figli, fare i compiti, nel frattempo non ti puoi distrarre, è sempre difficile per una donna essere madre ed essere una donna in carriera. Essere un'artista logicamente è più facile, perché comunque gestisci tu il tuo tempo e lo fai come lo vuoi tu, non hai quei ritmi da dover rispettare. Però ecco, ci sono queste condizioni ancora purtroppo mentali, è uno stato mentale. Io penso che il pregiudizio sia il cancro dell'umanità, perché il pregiudizio crea delle gabbie che non danno, tolgono aria a chi ti sta intorno e tolgono a te la capacità, te che hai questo pregiudizio e la capacità di guardare oltre. Quindi è una limitazione per chi ha questo pregiudizio e per chi lo subisce. Sì, sì, il pregiudizio spesso è più irremovibile di un giudizio, è una cosa che rimane, però a volte è granitico, è difficilissimo da togliere, c'è tanto lavoro. Qua si potrebbe aprire anche un capitolo molto ampio sul tuo impegno, anche sul fronte LGBT, è un campo che tu hai sempre sostenuto. Noi ci siamo proprio conosciuti ormai, credo, sei o sette anni fa, quando tu eri la madrina del Pride nazionale a Palermo. È stata una cosa bellissima. Sì, che ci siamo incontrati, conosciuti, eravamo tutte e due su questo carro, tutte e tre anni, perché c'era anche il tuo Francesco. Io da sempre ho lottato, perché comunque bisogna lottare contro il male e non contro l'amore. Io dico sempre che l'amore sceglie l'amore e l'amore non ha sesso, l'amore è amore verso il cuore che ti batte dentro un essere vivente. Se due persone si scelgono e scelgono di amarsi, li devi amare, non li puoi ostacolare. Io trovo che sia immorale e sia anche una forma di quasi un omicidio. Uccidere l'amore è un omicidio comunque. È vero, uccidere l'amore è un omicidio e genera solamente odio. Diventa poi un processo irrarrestabile di violenza e di odio. C'è un grande bisogno di amore, c'è un grande bisogno di diritti. E i diritti generano altri diritti, non tolgono i diritti a qualcun altro. Questa è una cosa anche molto importante che vogliamo sempre ribadire. Dare diritti a qualcuno non sottrae i diritti a qualcun altro, anzi, spesso rafforza e incrementa quelli dell'altro. L'abbiamo detto e ci siamo spesi molto su questo aspetto per esempio della genitorialità per le coppie omosessuali. Però vorrei tornare all'arte. All'arte, sì. Torniamo all'arte. Perché è una forma anche per conoscere, perché comunque grazie a te ho conosciuto anche delle artisti fantastiche. Tu mi hai fatto conoscere la Loredana Longo che ho cominciato ad amare grazie a te, che trovo fantastico. Perché poi c'è quest'artista che ha cominciato, tu ti hai nel terrore delle bruciature. Quando ti casca qualcosa sul tappeto, attenzione che ti casca la sigaretta, la cosa. E lei ha fatto quello che era il terrore di tutti, la bruciatura. E quella bruciatura è diventata una forma di comunicazione pazzesca. Perché poi tutte le frasi che scegli sono dirette e sono lì, sotto i tuoi piedi e ti comunicano ogni volta che tu le guardi. E sono bellissime. Ti devo dire grazie perché trovo che sia veramente un messaggio, per me è stato un messaggio che va al di là. Perché ripeto, nasce dalla preziosità di un qualcosa che tu tieni sotto i piedi, perché comunque anche quella è una forma d'arte. Se tu pensi tutti quei nodini e tutti quei disegni, è un'arte pazzesca, è il fatto della paura, di una paura che diventa una forma d'arte. Io la vedo così. E la vedi bene. Non sei andata molto lontana dal concetto. La vedi bene. E forse dobbiamo cambiare la formula, dobbiamo scrivere scusi capisco. No scusi non capisco. Perché l'hai capito, è vero. La paura spesso è una componente che entra molto nell'arte e alcuni artisti hanno lavorato profondamente sulla paura. L'hanno indagata, la paura personale e la paura anche della società. L'hanno analizzata, l'hanno raccontata, a volte l'hanno denunciata. La paura è un sentimento spaventoso, proprio anche se un po' tanto logico, però anche generatore di energie, generatore di creatività. Ed è bellissimo, è azzeccato molto bene che Loredana Longo nel suo lavoro usa la distruzione, usa anche una forma di violenza che diventa creatività. E lo fa con un figlio, con una grande forza. Che non voglio dire virile, perché non mi piace categorizzare, è perché come sai, abbiamo detto più volte, non mi piace mai usare espressioni che si riferiscono al mondo maschile verso le donne. Ti ricordi che ne parlavamo nel mio desiderio di togliere dalla faccia della terra l'espressione donna con le palle. Scusate, approfitto di questo spazio per orare la mia causa. A parte il fatto che dovremmo cominciare a pensare che comunque il talento non ha sesso come l'amore, perché comunque anche quello è una forma di pregiudizio, quando poi ti dicono, ah ma brava, ma è donna, sei femmina, cioè sei donna, cioè è bruttissimo tutto questo. Il talento non ha sesso. Se tu sei una persona talentuosa, se tu hai creatività, se tu hai quella marcia in più, puoi essere uomo o puoi essere donna. E comunque è l'importante che tu abbia la libertà di poter esprimere questa tua creatività e questo tuo talento. E soprattutto di trovare persone come te, che i pregiudizi li ha sempre combattuti e quindi hai quella libertà di visione che altri non hanno e che però apprezzano poi, perché attraverso le tue gallerie comunque dà la possibilità a queste persone di avere visibilità, di essere apprezzate. Tu dai fine a tutto quello che sono i pregiudizi, no? Anche spiegando, perché tante volte per me l'arte moderna a volte è difficile, perché tutto può diventare arte moderna. Contemporanea. 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 Contemporanea può essere tutto arte e ci sono anche degli artisti che si spingono un po' troppo, altri dove c'è, secondo me, spinti molto da un business, perché anche lì ci sono logicamente tutti i campi, no? Ci sono quelli che poi vengono più sostenuti degli altri e ci sono delle cose anche difficili a volte da capire chi e come e cosa, no? Certo. Siamo qui per questo, scusi non capisco, nasce proprio da quello che stai dicendo, è giustissimo, è vero, è verissimo. Alcune cose sono ostiche, forse alle volte la distanza che abbiamo dall'opera è troppo ravvicinata. Non parlo di una distanza fisica, naturalmente parlo di una distanza anche nel tempo, a volte gli artisti vanno molto più avanti di noi, alle volte gli artisti guardano oltre e non siamo pronti. E poi piano piano la società lo fa suo, lo acquisisce, no? Io immagino quando la gente vide le opere pubbiste di Picasso, che cosa hanno pensato, ma andando anche un poco prima, al Dada e al Dada anche in teatro che generava reazioni così violenti, che tiravano le cose sopra. Quindi sicuramente alle volte una distanza troppo ravvicinata in termini di tempo crea uno spavento nell'osservatore perché l'artista è andato già molto oltre. Passano gli anni e capiamo che cosa ci voleva dire l'artista qualche anno fa. Però in tutto questo alle volte è vero che si insinuano anche degli artisti che non sono poi così significativi, interessanti, o degli artisti che guardano più al business che non all'arte. E allora lì è ragione tu, da solitrice, da persona esterna al mondo dell'arte, è ragione tu da persona, scusi non capisco, ad avere qualche dubbio, ad avere qualche perplessità su quello che è il nostro mondo dell'arte. Volevo ringraziarti per… Ma cosa ti colpisce? Come scegli tu? Tu hai scoperto anche degli artisti, delle artiste? Ci scopriamo… Qual è la cosa che ti fa decidere lei funziona, lui funziona? In verità ci siamo scoperti con gli artisti reciprocamente. Io non penso di essere in una posizione tale da dire tu sì, tu no, scoprire, non scoprire. Questa è una semplificazione diciamo che spesso è noto e le persone pensano che alle volte le gallerie costruiscono gli artisti. Spesso è esattamente il contrario, sono gli artisti che costruiscono le gallerie, sono gli artisti e con il loro impegno, con il loro lavoro, con il loro mettersi in gioco danno visibilità alle gallerie e non il contrario. Le gallerie sono importanti quando hanno buoni artisti, quando hanno artisti importanti e non viceversa. Questo per me è molto importante e questa è anche la mia gratitudine verso gli artisti con i quali lavoro da anni e che hanno contribuito al mio piccolo successo e hanno contribuito anche al fatto che tu pensi che io li abbia scelti. Invece sono loro che hanno scelto me e abbiamo lavorato insieme. Comunque se posso rintracciare un parametro per me è sempre il parametro del rapporto umano perché la mia galleria nasce a Palermo dove l'aspetto economico e il business è quasi inesistente. Noi abbiamo pochissimi collezionisti e vendiamo pochissime opere. Allora lì bisogna lavorare non guardando alla vendita ma guardando a tutto il resto che è molto più che la vendita. Bisogna lavorare in sinergia e lavorare anche con l'amore per quello che si fa. Bisogna lavorare per la gioia di fare una bella mostra. Poi accidentalmente può succedere anche di vendere dei lavori e questo naturalmente è sempre importante, è sempre un piacere ed è necessario perché gli artisti naturalmente vivono di questo e anche io ci vivo. Però questa è la mia origine in una città non particolarmente avvezza al business o al collezionismo perché purtroppo da noi in epoca recente non c'è una grande tradizione di collezionismo come può esserci a Milano. E allora di comune intesa con gli artisti con cui è nata la galleria, con cui abbiamo lavorato in questi anni, abbiamo lavorato per quello che è l'essenza del lavoro di una galleria, fare delle belle mostre, fare dei bei lavori e poi c'è l'opportunità di venderli. Questo ha fatto sì che ci siamo scelti con artisti che hanno sempre anteposto il piano umano, cioè una bella intesa. Capirci, essere in sintonia, per me è la grande bella opportunità di capire il lavoro di un artista e il lavoro di un artista lo capisci tramite certamente le opere ma lo capisci anche tramite le lunghe conversazioni, le cene, i pranzi insieme, le colazioni, le ore spese insieme, le conversazioni, qualche litigio. Però io da siciliana ti devo dire grazie del fatto che tu abbia scelto di restare giù in Sicilia perché comunque è un'opportunità che tu dai anche ai giovani, anche ai siciliani, no? Perché è facile andare via dalla Sicilia. Io lo so, io l'ho fatto. È coraggioso restare ed è coraggioso come te, portare giù e far conoscere agli artisti che porti giù la Sicilia, ma la Sicilia è tutto quello che è arte, perché la Sicilia in passato è stata una grande, cioè è stata quella che abbracciava gli artisti che venivano un po' da tutto il mondo. Poi c'è stata un po' una chiusura e c'è stata un po' anche una forma di depressione e quindi è giusto anche che i ragazzi comincino a recuperare il tempo perso. Un po' quello che sta succedendo qui in Cina. Qui in Cina ci sono delle biennali dei musei di arte contemporanea meravigliosi, però per tanto tempo i ragazzi sono stati allontanati dall'arte, dalla cultura e adesso c'è un ritorno perché si sono resi conto che comunque è importantissimo. Per la creatività. Un ragazzo che impara ad apprezzare l'arte stimola la creatività e soprattutto dà l'opportunità di capire che comunque quella forma di creatività, di arte, e quella cosa che tu ti porti dentro può essere espressa e può diventare una forma di arte oppure di un tuo successo o soltanto un modo per comunicare quello che hai dentro. Maria Grazia, molto sinceramente, pensi che questa creatività, l'idea che abbiamo nella Cina non è una nazione che dà tanto spazio alla creatività, ci sembra che ancora oggi sia una nazione o un grande stato che invece tenda un po' più a comprimere i propri cittadini. Sì, però tra i giovani c'è una voglia, ci sono degli artisti fantastici, veramente fantastici qui e logicamente devi rispettare quelle che sono le regole, ma se tu rispetti le regole e poi alla fine hai una grande libertà, sei molto più libero della libertà che ti fanno credere di avere che poi non c'è, perché poi da noi c'è una libertà immensa che viene invece censurata da ogni forma di pregiudizio, da ogni forma di, non dico anche di razzismo personale che non va per colore o nazionalità, proprio è una forma di censura, proprio di chiusura mentale allora quello ti provoca una mancanza di libertà che è molto più, è molto più elusiva perché ti fa credere e poi non ti dà, qui sai quali sono i tuoi paletti, se tu stai dentro quei paletti hai il massimo della libertà perché ti puoi esprimere rispetto a quelle che sono. Il problema però sono quei paletti, sai, è difficile parlare di libertà all'interno di un, comunque, di un deciso. No, però mi sono espressa, mi sono espressa male io perché poi se vai a vedere le opere dentro il museo, dentro la biennale ti rendi conto che c'è una grandissima libertà dal punto di vista creativo, no, no, non ci sono dei parametri, io parlo dal mio punto di vista, dal punto di vista del cinema ci sono dei paletti perché non si può parlare di politica nei film, cioè il sesso è logicamente nudi, queste cose qui sono censurate, però dal punto di vista invece visivo dell'arte c'è molta più libertà. Io parlavo anche di quello che era il mio campo, il campo cinematografico, mentre nel campo dell'arte, io sono andata a vedere delle mostre qui, ti devo dire che c'è una grandissima libertà, ci sono artisti fantastici, anche interessanti, anche interessanti, perché poi comunque io parlo da ignorante che appunto fa quella che non capisce, che si lascia incantare perché poi è un modo per me per capire cosa, per me è un modo di comunicare l'arte, no? Io quando guardo, guardo quello che l'artista mi vuole comunicare, quello che io capisco, logicamente ognuno c'è le sue linee e capisco e non capisco, poi dove non capisco chiedo a chi sa più di me. Però ti devo dire che purtroppo uno dei più famosi artisti cinesi che è Ai Weiwei è stato in carcere, è stato un dissidente, insomma non è che abbia avuto vita facile, quindi apprezzo molto e interessante questo punto di vista che dall'interno tu non solo sei in Cina in questo momento, ma sei anche in Cina per un lavoro creativo, quindi sei veramente profondamente dentro al sistema creativo cinese in questo momento, per cui è una testimonianza molto preziosa per noi che siamo lontani sia fisicamente ma che forse anche concettualmente. C'è una gran voglia di integrarsi, c'è una gran voglia per i ragazzi di creare, è logico, tutte le cose vanno fatte a piccoli passi perché altrimenti crei il caos e crei le barriere. Però è un modo, io non ho mai avuto pregiudizi nei confronti loro, ho sempre rispettato quelle che erano le loro scelte e secondo me solo così, un po' assecondando, un po' cercando di scambiarci, soltanto il fatto di avere un contatto poi è un po' come l'equazione di Dirac, io ci credo molto in questa cosa, che quando due corpi si incontrano, si scambiano un qualcosa e si arricchiscono l'un l'altro e diventeranno per sempre uniti. Ed è per me questo qui, è il fatto che comunque gli scambi, il portare la piccola differenza alla fine si insinua e porta dei cambiamenti. Logicamente le cose vanno fatte sempre con grande pazienza e al tempo giusto. Questo è molto vero, questo è molto vero, l'espressione insinuarsi, entrare goccia a goccia è un'espressione molto corretta e molto giusta perché spesso le rivoluzioni più deflagranti poi non sono così durature come invece dei cambiamenti lenti, lenti ma irreversibili. Continui. Continui. Ed è molto vero anche che questi cambiamenti vanno fatti dall'interno, quindi il fatto che tu riesca a essere in questo sistema e col tuo contributo, con il tuo pensiero di donna libera e con tutto quello che ho detto anche prima riguardo ai diritti civili e ai diritti LGBT che in Cina in questo momento non so come sono considerati, però sicuramente tu sei una che porta il tuo pensiero quando vuoi e sono certo che ti spingi e cerchi di instillare piano piano, il confronto serve sempre, il confronto anche con un'altra cultura, con un'altro modo di pensare, però devi andare, ho imparato ad essere molto diplomatica, io sono stata sempre molto poco nella mia vita, sono stata sempre una molto irruente che volevo a tutti i costi imporre quello che era giusto, ma poi era giusto solo per me e se tu imponi poi alla fine vedi rischi di fare dittatura. Esatto, ho imparato a lasciarmi conquistare anche delle differenze di mentalità, di capire anche dove sbagliavo io oppure far capire dopo che poi ci sono altre visioni e comunque quanto mi piacciono quelle scarpette rosse dietro di te guarda, sai che ho avuto a proposito di scarpette rosse, ho avuto il grande piacere di fare una lettura alle Nazioni Unite con la Marina Abramovic, parlando di artiste donne, è stato molto molto emozionante perché eravamo tante attrici che leggevano dei pezzi di un libro proprio sulla violenza ed è arrivata lei, mentre tutti quanti indossavamo queste scarpette, lei è arrivata e queste scarpette rosse l'ha messe a terra davanti al microfono e è ritornata dietro, ha letto il suo pezzo e lì riconosci l'arte, lì riconosci l'arte perché lei è riuscita a fare la sua piccola installazione, anche con un semplice paio di scarpe e a fare tutto quello che noi avevamo fatto, lei l'ha fatto in un modo diverso ed è diventata arte e sono contenta perché anche lei è stata una che per me è stata coraggiosa, no? Beh sì, si è messa molto in gioco lei, anche ha spinto il suo corpo verso soglie di dolore, di sacrificio, di perseveranza. Lei è certamente un monumento dell'arte contemporanea, è una figura molto ampia con anche aspetti controversi ma chi non ce li ha, però è assolutamente un colosso ed è bellissimo. Sai che pensavo quando tu dicevi che lei ha messo queste scarpette rosse, no? Questa tensione era focalizzata sulle scarpette rosse ma in verità io immaginavo la portata del gesto fisico di questa donna che si sa muovere, cioè ha una grandissima consapevolezza del suo corpo, dei suoi movimenti, del significato dei gesti, quindi queste scarpette rosse in verità erano proprio uno strumento nelle mani di un artista con una grande creatività e con una grande espressività. Io immagino che questo gesto sia stato di una potenza significativa per ricordarcelo ancora, no? Cioè tu ricordi il gesto, ricordi che lei si mosse, è arrivata, vuoi se lo sintetizzi in queste scarpette rosse ma fondamentalmente lei ha fatto proprio una performance, ha fatto quello che è il suo lavoro, che è la sua vita, la sua totalità. Ha fatto un qualcosa, ripeto, che era tutto, io l'ho osservata, l'ho rivista, perché qua l'abbiamo fatta più di una volta questa lettura, quindi ho avuto il piacere di riguardarla. E lei era un tutt'uno, capito? Non era soltanto andare lì, appoggiare le scarpe e farlo. No, lei appoggiava le scarpe, cioè c'era un tempo dove tu comunque avevi la prima emozione, poi ti guardava e guardava tutti. Guardava tutti e credimi, ogni sguardo diventava un colpo al cuore. E dopodiché ritornava e tutto era meraviglioso. E devo dire grazie, perché io l'ho vista, mi sono capitata di vederla, sai, i documentari, cose che fanno su SkyArte. Vista dal vivo ha una potenza pazzesca. Ecco, ci credo, sono contento. Anche ieri sera, per chi ha visto un programma nazional popolare come Sanremo, però quel colosso di Loredana Bertè ha appoggiato sul palco un paio di scarpe rosse. Però ho il dovere di dire che questo lavoro alle mie spalle non nasce con questo intento. Questo è molto importante, nel senso che questa è un'opera di Liliana Moro, datata 1997-2001. È un lavoro in cui il tema, come inteso oggi, delle scarpe rosse non c'era ancora e non è nell'intenzione dell'artista. Però è un'opera potente, bellissima, di un'artista donna, bravissima, e mi è sembrato molto bello anche questa idea di questa lettura che potevamo avere di questo lavoro, che non è nell'intenzione dell'artista, ma questo lavoro si presta anche a questa lettura. E ci dava uno spunto per confrontarci su un tema che so che a te è molto caro, che appunto abbiamo introdotto prima accennando il riferimento alle scarpe rosse, e il tuo impegno enorme contro la violenza sulle donne, che è una cosa monstruosa. Ecco, lì veramente io devo dire scusi, non capisco, perché veramente non capisco come si può fare male a un essere umano e a una donna. Ma non si capisce perché comunque qualcuno possa pensare di appropriarsi della tua vita, di essere proprietario di un corpo. Una donna ha la generosità di annullarsi quando si innamora e questo è meraviglioso quando incontri la persona giusta perché diventi un tutt'uno con l'altro. Il problema è quando incontri la persona sbagliata, che può capitare a tutti, perché tante volte c'è il pregiudizio che si dice che solo le donne che crescono in povertà o con livello sociale basso si possono ritrovare in delle condizioni di violenza. Non è così? In tutti questi vent'anni di lotta alla violenza mi è capitato di incontrare donne di qualsiasi livello sociale, di qualsiasi cultura, manager, casalinghe. La violenza purtroppo è molto democratica, colpisce al cuore. Io ho chiamato tutto un libro adesso che si chiama Vite senza paura perché ho voluto raccontare di queste donne, di cinque donne diverse tra di loro, donne che si sono ribellate, che ce l'hanno fatta, che si sono salvate proprio per dare un messaggio alle donne e dire che non accettate mai, non sentitevi stupide, non sentitevi sbagliate. Le donne a volte si vergognano di dire che subiscono violenza perché si credono non all'altezza, ormai si credono che sono talmente mortificate, svuotate che non hanno neppure più la percezione di essere vive e questa è una cosa che non bisogna mai accettare. Io dico sempre che le donne devono denunciare, devono avere la forza di scappare via, perché una volta scappate via si riacquista quella visione reale e quindi si può ricominciare a vivere. Lottiamo tutti i giorni, in queste settimane purtroppo sono state tante le donne che hanno perso la vita e continuano perché comunque questo stato di pandemia ha portato a uno stato anche di crisi economica e l'uomo purtroppo, l'uomo vigliacco si rifà con la sua potenza fisica per le sue frustrazioni sulla donna e quindi tante donne hanno perso la vita, tante donne durante il lockdown hanno sofferto, sono state massacrate, hanno massacrato di botte anche i figli che si ritrovavano a casa. Insomma la violenza purtroppo anche lì è uno stato mentale, è un cancro che va estirpato dalla mentalità e soprattutto dall'educazione. Noi mamme dobbiamo insegnare, noi donne per prime dobbiamo insegnare ai nostri figli ad non aver paura di amare, ad rispettare le donne, a essere noi stesse le prime a non puntare il dito perché noi donne abbiamo il brutto vizio di avere sempre quel vermetto dentro della rivalità tra donne. Se vedi una donna bella, la prima cosa che fai lo vedo, perché la maggior parte io vedo, studio questo anche sui social, quando c'è una donna bella sono tante donne che insultano, che denigrano, che cominciano a dire se è rifatta, se è brutta. Le donne non sanno essere complici delle donne e questa è una cosa che dobbiamo imparare a fare perché solo questo ci può salvare dal non essere il sesso debole. Questa fa parte della nostra grande debolezza. Essere sesso debole significa non avere paura dell'altra donna e non essere capaci di essere complici di apprezzare la bellezza. Io ringrazierò sempre mia madre che a 91 anni e con una quinta elementare mi ha insegnato ad amare il bello, ad non essere mai invidiosa ma amare il bello perché lei mi diceva guarda la cosa bella ti mette allegria ed è vero, ti mette allegria e ti riempie il cuore e questo grande insegnamento di questa donna semplice e senza grandi insegnamenti mi ha salvato la vita perché io amo il bello, amo le belle donne, amo la bellezza, perché per me è stata una forma di creatività, di gioia del cuore. Bellissimo, bello bello, bello questo passaggio anche da mamma a figlia, da donna a donna, sempre di questa grande forza. Ma mi piaceva quell'idea che dicevi, cioè sradicare la violenza da parte dei uomini verso le donne è un lavoro che bisogna farlo quotidianamente e anche partendo da aspetti che alle volte non si immaginano che contengono questa forma di violenza. Parlavo con un artista che si chiama Stefania Galegati con la quale lavoro a tanti anni e che è anche una mamma di due figli stupendi che io ho visto proprio nascere, crescere e Stefania mi raccontava del suo impegno per combattere questi tremendi abecedari o libri di scuola in cui c'è il papà lavora, la mamma stira, il papà legge, la mamma cucina. Cioè in cui già c'è una classificazione fortissima in cui si generano delle categorie di pensieri in cui il papà è preposto a fare un tipo di attività e la mamma sempre quelle. E quindi i bambini crescono con questa. Stefania lotta contro questa da tanti anni. Io, mio marito e io facciamo parte anche di questa sua lotta perché abbiamo passato tante ore insieme in cui ci siamo divertiti da morire, però io sapevo che in quelle ore che noi stavamo insieme, e lo sapeva anche Stefania, c'erano questi bambini che crescevano vedendo due uomini, mio marito e io, che si volevano bene e quindi costruivamo insieme un futuro senza preconcetti per me. Quello che è stato anche per mia figlia, mia figlia è cresciuta con a casa amici che venivano e comunque mia figlia oggi è la prima che lotta contro questa forma di pregiudizio, è a 19 anni e le ho dato la libertà di vedere le persone, di vedere le persone, di vedere l'essere umano, perché ci dimentichiamo che poi lottiamo contro tutto questo, ma noi lottiamo contro la vita. Ogni essere umano è una vita, noi dobbiamo vedere le vite, non dobbiamo vedere quello che poi ricopre le vite, che possono essere pelli di ogni colore, capelli di ogni colore, vestiti come vuoi, firme, non firme. Noi siamo vite e dobbiamo amare la vita. È verissimo, dopo queste parole è difficile andare avanti. No, perché ce ne dimentichiamo, ce ne dimentichiamo spesso, guarda, io ultimamente sto facendo tante lotte per questo, per ricordare alle persone tutti i giorni che dobbiamo lottare per la vita, per le vite delle persone, per migliorarla. Dimentichiamo, cioè ci occupiamo di tutto quello che è esterno e ci dimentichiamo della cosa più importante, che dentro ogni corpo batte un cuore. Il mio libro inizia con un tun tun tun, perché il cuore è la prima cosa che si forma in un essere umano e quel cuore predominerà sempre su tutto e ce ne dimentichiamo, ce ne dimentichiamo troppo spesso, perché non lo ascoltiamo più il cuore. E quindi quando tu smetti di ascoltare il cuore, diventi un essere, un robot. Succedono i disastri, quando non si è, succedono i disastri a tutti i livelli. E un po' li stiamo vivendo per alcuni aspetti. Abbiamo visto come con questa pandemia le nazioni più attente all'economia, al business, poi hanno fatto dei disastri da un punto di vista, delle morti. Chi invece ha messo più al centro l'essere umano, per alcuni aspetti, a preservarne la salute. Adesso è un argomento molto spinoso perché si entra nella politica e lì è sempre difficile. Però abbiamo visto che in Italia nel bene e nel male apri e chiudi si è cercato in qualche modo di preservare la salute dell'individuo. Lo sforzo enorme da parte di chi ci governa. Ha fatto bene, ha fatto male. È difficilissimo giudicarlo in questo momento. Però era uno sforzo, secondo me, mirato a preservare la salute. Quindi ci chiudevano in casa a mettere mascherine per rispetto di chi, per questo virus, può anche morirci le persone che possono... No, no, ma questo virus colpisce tutti. Purtroppo è non rispettare... Sai, poi ci sono quelli che pensano di essere fighi quando non mettono la mascherina oppure in frangone regole. Non capiscono che questo è un virus molto pericoloso. Guarda, io qui ho fatto 21 giorni di quarantena e ne farò altri 7 di semi-quarantena. Nel senso da domani io posso cominciare a lavorare. Sono stata tamponata due giorni prima di partire, quando sono arrivata, dopo due giorni che sono arrivata, dopo una settimana, dopo la seconda settimana e ne farò un'altra settimana. Quindi sono 28 giorni in tutto dove tu non sei autorizzata a uscire. Io da domani sono autorizzata a lavorare, ma non posso entrare in nessuna forma di locale pubblico, perché ancora non sono per loro fuori. Però questa forma di rispetto, e tutti la rispettano, ti porta a poi avere una libertà, perché poi esci e praticamente non hai più casi. I casi vengono isolati immediatamente, perché quell'app che tutti si sono ribellati di scaricare, poi alla fine serviva soltanto per localizzare immediatamente il problema e isolarlo, creare subito una forma di isolamento che tutti hanno pensato che ognuno si volesse occupare della vita degli altri, quando poi chi ha uno smartphone è già controllato, perché tu ben sai, siamo super controllati. Assolutamente. Ma non puoi controllare 60 milioni di persone, poi alla fine diventerebbe una spesa enorme, enorme. Tutti pensiamo di essere così egocentrici da pensare che tutti vogliono interessarsi della vita dei segreti nostri. Esatto. Ma soprattutto chi gliene frega a sapere cosa fa Francesco. Ma hai capito? Penso che noia la mia vita. Seguirmi. Ma no, ma no, ma poi alla fine, ripeto, bisogna essere intelligenti e avere la risposta. Cioè, prima più rispetti le regole e prima ne vieni fuori da tutto questo. Nel rispetto poi di tutti quelli che stanno pagando, veramente, perché pensa soltanto alla nostra terra, che è una terra di turismo, pensa a tutti i ristoratori, gli albergatori. Ma tutto, la nostra Sicilia, la nostra Sicilia, che poi alla fine vive di turismo, come tutta Italia, ma lo stesso non poter viaggiare, non potersi muovere. Io ho fatto un volo, veramente, un volo a settimana per ritornare. C'è sempre l'ansia che blocchino tutto, no? Quando poi alla fine io, in una settimana, andavo e venivo da tutto il mondo, una volta al giorno, adesso mi ritrovo ad aspettare. Quindi bisogna rispettare le regole per dar fine a tutto, perché tanto finisce, finisce tutto. Cioè, è logico che debba finire, però bisogna rispettare le regole. Bisogna, bisogna rispettarle nella vita, ma infrangerle poi nell'arte. Nell'arte, certo. Infrangerle continuamente per creare qualcosa di nuovo. Io credo che il talk duri 50 minuti, per cui secondo me siamo rimasti un po' agli ultimi minuti. Allora, se parliamo di arte, raccontami un qualcosa di bello che stai facendo. Spiegami che cosa stai facendo adesso nel tuo percorso artistico. Adesso te lo dico, anche se non voglio rubare troppo tempo questa conversazione, perché ci sono tante donne in quello che sto facendo adesso. In questi giorni, anzi, dopo domani, finisce una mostra stupenda nella Galleria di Palermo, che è una mostra di Letizia Battaglia. Letizia Battaglia è un'altra, che ti ho fatto vedere con un whatsapp, e lei è una donna pazzesca, fortissima, è stata una bellissima esperienza lavorare con lei, sto imparando tantissimo, mi sta regalando dei momenti stupendi. ci ha regalato già la sua carriera lunghissima, ha fatto delle foto meravigliose, sono delle opere d'arte. Abbiamo la mostra che abbiamo in Galleria, che l'ha curata un'altra donna, che si chiama Agatha Pulizzi, che collabora con me tantissimo e da tanto tempo, è una mostra sull'amore. Abbiamo chiesto a Letizia, che è famosa per i suoi scatti che raccontano gli anni peggiori, della Sicilia, la cronaca, la violenza, della mafia sulla nostra terra. Invece abbiamo scelto con Agatha e Letizia, anzi Agatha e Letizia hanno scelto delle immagini che parlassero d'amore. Questa è stata un'esperienza che si sta chiudendo in questi giorni e che è fantastica. Mentre a Milano, inauguriamo martedì, ma non sarà un'inaugurazione, ma semplicemente apriremo la galleria, in questo periodo non si possono fare inaugurazioni, con due opere di due artiste donne, che sono Mona Tum e Loredana Longo. E c'è una terza donna, c'è Agatha Cristo. Iniziamo questo ciclo che si chiamerà Trism. Io penso che tu sai cosa è un Trism. No. Trism è un'espressione inglese che indica un gioco, un'attività fra tre persone. Questo è l'origine del termine. Nell'accezione comune è diventata una forma di equilibrio affettivo, cioè una coppia formata da tre persone, come posso dire. Tre persone che si amano. Non so se mi spiego. Un nucleo di innamorati. No, no, ti spiego, ti spiego. Tre persone che scelgono di amarsi. Possono essere due uomini e una donna, come in Jules Gim, il film di Truffaut. Possono essere due donne e un uomo. Possono essere tre uomini. O tre donne. E un uovo è una formula che stiamo incontrando sempre più spesso, di persone che scelgono di amarsi in tre. E abbiamo scelto questo termine, Treason, per una serie di appuntamenti che vedranno la relazione fra tre soggetti. Un artista della galleria, un artista esterno alla galleria e un testo letterario, un autore letterario che accompagnerà il progetto. Quindi tramite la lettura si entrerà in quello stato di percezione delle opere che scorremo. Questo è un progetto che parte martedì e che proseguirà più avanti con altri abbinamenti abbastanza inediti, interessanti, anche fra artisti molto, molto giovani, con artisti meno giovani, provenienti da nazioni diverse. È un progetto che mi entusiasma, mi eccita molto. Me voglio far parte, così capisco, capisco. In qualche modo. Ne fai parte già coinvolgendoti nel racconto. Troviamo una formula per integrare il teatro. Io che ho visto il teatro è bellissimo, sei bravissima. La mia parte comica che nessuno aveva visto mai. Devo dire che anche lì ho debuttato a 50 anni, ho vinto la paura. Io penso che vincere le proprie paure sia una grande forma di libertà. Io mi sono portata a questo fantasma della cobbia del palcoscenico per anni, data dalla mia grande timidezza, dalla mia grande insicurezza forse. E sono contenta perché una volta che tu ti apri, rinasci. È nata una nuova Maria Grazia con una nuova forma perché è uscito fuori da quel guscio che ha lasciato e mi sono rinnovata di una sicurezza e soprattutto di un'arte che mi mancava, che era quello del teatro perché ogni forma d'arte ti arricchisce e ti genera, ti genera quelle emozioni che sono meravigliose, ti danno quelle sensazioni cerebrali che sono secondo me la forma di droga più bella del mondo perché è gratis per tutti, la puoi creare ed è dentro di te. Ti dà una dipendenza pazzesca perché ti dà dipendenza per il bello, per tutto quello che tu riesci a rubare con gli occhi e farne sensazioni meravigliose. Che bello, che bello slancio. Grazie Maria, grazie. Ti ringrazio tantissimo di questa bella conversazione. Grazie a te, grazie a voi. Grazie veramente alla Fondazione Merz per avermi dato la presentità stasera di passare una serata meravigliosa con un amico, tanti auguri, buon compleanno. Grazie. Ti voglio bene. Anche te voglio bene, grazie, grazie. Che bel regalo di compleanno che ci siamo fatti, anzi che mi avete fatto, ma... Te lo meriti, te lo meriti. Grazie mille, grazie, grazie a tutti. Grazie. Viva l'arte. Assolutamente. Viva l'arte. Viva l'arte, arrivederci. Viva l'arte, arrivederci.